In un'altra pillola abbiamo visto cosa intendono le assicurazioni per fabbricato. Vediamo adesso cosa si intende invece per contenuto. Per contenuto intendiamo tutti i beni contenuti in casa nostra, dagli arredi, alle coperte, ai vestiti, alla console dei videogiochi dei nostri figli, agli elettrodomestici, tutto quello che è nel suo contenuto. Per avere certezza di cosa intende la vostra compagnia di assicurazioni per contenuto, il mio suggerimento è quello di andare a vedere il glossario che vi ricordo è presente nelle condizioni generali di assicurazioni. Se non lo trovate, lo avete perso, potete sempre andare sul sito internet della vostra compagnia.